But one thing I know, I know, I never love is old Lorenzo benvenuti, un amichevole profigua contro la Mezza Eterne, le tue impressioni? Sì, abbiamo fatto una bella sgambata, loro come sempre ci danno del filo da torcire e niente, abbiamo provato le nostre cose sia in attacco che in difesa per prepararci alla partita di domenica contro Napoli e penso sia stato un buon test per tutti, dai Partita contro Napoli importantissima, si proverà a trovare la prima vittoria fuori casa? Sì, andiamo a Napoli a giocarcela, non andiamo laggiù convinti che sia una partita semplice perché loro sono in fondo alla classifica, ma come hanno dimostrato nell'ultima partita in casa contro Agrigento sono una squadra che non molla mai, sono arrivati fino a tre minuti della fine per giocarcela Andiamo laggiù convinti di poter fare bene, a cercare di strappare questa prima vittoria fuori casa e poi ci rivedremo al Calafiore contro Tortona per un'altra grande partita